Perché mio figlio non mi ascolta? Gli errori che involontariamente commetti probabilmente rientrano in una delle seguenti categorie, 10 categorie. Primo errore, incoerenza. Tuo figlio ama la coerenza, il suo cervello apprende esclusivamente nella coerenza. Quante volte ti è capitato di dire ok puoi guardare la tv ma solo mezz'ora e poi la mezz'ora è diventata un'ora, in alcuni giorni l'hai permessa anche un'ora e mezza mentre in altri sei stato rigidissimo e non hai permesso neppure di accenderla, idem col cellulare, videogiochi, biscotti. La stessa cosa vale anche per i bimbi più piccini. Dammi la manina per camminare sul marciapiede ma poi va bene lo stesso anche se mi stai vicino e se c'è un amichetto puoi fare pure una corsa, poi invece una bella strigliata se non mi dai la mano. Andiamo via dal parco fra 5 minuti che poi diventano 10 e se trovi una mamma con cui chiacchierare diventa mezz'ora ma in altri giorni ti scocci perché sei in ritardo, pigli il tuo figlio e lo trascini via. Possiamo continuare così per altri mille esempi. Il concetto è che a volte ti capita di dare un'indicazione e nei giorni cambi idea e modifichi la regola. Questo crea confusione in tuo figlio che abbia un anno che sia un turbolente adolescente e questa incoerenza è poco utile non solo quando riguarda il contenuto della comunicazione verbale ma anche quando riguarda il tuo comportamento. Una volta mantieni la calma, un'altra volta urli, poi sei comprensivo, poi offendi, a volte sei morbido, infine ti irrigidisci e diventi irremovibile. È fondamentale che tu faccia delle scelte e poi sia coerente con esse, solo così dai certezza in chi ti ascolta e crei nuovi modelli di comportamento. Secondo errore, essere astratto. Guarda poca tv, mangia solo un pezzetto di cioccolata, usa il cellulare ma senza esagerare, sistema la tua camera, puoi venire in braccio ma solo un momentino, metti in ordine, comportati bene. Noti cosa hanno in comune queste frasi? Sono astratte, non contengono indicazioni precise, sono variamente interpretabili. Secondo te la tua idea di stanza ordinata può solo vagamente assomigliare all'idea che ha tuo figlio e il concetto di pochino comprende la stessa quantità. Prova a dire a tuo figlio gioca con la play ma non esagerare, potrai scommettere sul risultato che ottieni. Tu sei convinto che una mezz'ora di tempo passa a bastare mentre per lui si comincia ad esagerare dopo le tre ore di full immersion. Quando parli con tuo figlio è bene evitare concetti astratte e poche precisi. Terzo errore, convinzioni utopistiche. Per qualche motivo noi genitori siamo convinti che siccome lo abbiamo detto noi allora nostro figlio ci ascolterà sicuramente. Poiché lo abbiamo condiviso, spiegato e ripetuto mille volte allora per forza ci ascolterà. Temo di doverti togliere questa illusione. La verità è che siccome lo dici tu sai probabile che tuo figlio faccia esattamente il contrario. Quando scegli e comunichi una regola è importante che tu parta dal presupposto che giustamente tuo figlio non la rispetterà. Lui ha bisogno di sperimentare e anche di mettere alla prova la tua credibilità. È fondamentale che tu abbia un piano B e tu sappia esattamente sempre come agire quando lui ti proporrà un comportamento opposto a quello che hai richiesto. Quarto errore, comunicare nel momento sbagliato. Hai mai provato a comunicare a tuo figlio quando è arrabbiato? Hai provato a dargli la regola dei videogiochi mentre davanti alla play ed è ora di spegnere? Hai mai provato a parlare di compiti proprio quando è ora di farli? Hai mai provato a spiegargli quanto faccia male un eccesso di cioccolata mentre davanti a sé è un ovetto? Probabilmente hai vissuto esperienze simili e probabilmente sai perfettamente cosa accade. Tuo figlio non ti ascolta. Non è il momento esatto. Il suo cervello è già in modalità battaglia e in queste situazioni lui ha spesso più armi di te. Non molla fino alla fine e quando desidera raggiungere i suoi obiettivi ludici fa emergere tutta la sua tenacia. È necessario che tu scelga un momento in cui sia disponibile all'ascolto per poter essere efficace e per poter raggiungere un buon accordo con lui. Quinto errore. Attaccare il suo cervello rettiliano. Metti giù quel cellulare. Vai immediatamente a fare i compiti. Che è tardi? Smettila di mangiare cioccolata. Ancora davanti alla tv? Spegnila subito. Non esiste che tu esca quest'ora. Come fai a vivere dentro questa stanza? Sistemala. Entra oggi. Riconosci questi toni vagamente accusatori e scocciati? Ovviamente è naturale arrabbiarsi quando il proprio figlio perpetua con atteggiamenti poco adeguati. Pur amandolo sopra ogni cosa ci sono momenti in cui il fastidio prende il sopravvento e il tuo modo di comunicare rischia di diventare un po' asciutto, sgarbato, secco. Ancora una volta il cervello di tuo figlio reagisce a secondo natura. Una parte di esso, la parte più antica, chiamata appunto rettiliana, percepisce subito l'accusa e il tono ascocciato. Percepisce il pericolo, percepisce l'attacco e cosa fa? Reagisce per proteggersi, impedendo alla parte più logica e razionale di ascoltare. Quando comunichi una regola a tuo figlio con un tono sgarbato, il suo cervello rettiliano ti percepisce come un pericolo e non permette alla neocorteccia di concentrarsi sull'informazione. Risultato, tuo figlio non ti ascolta. È importante comunicare a tuo figlio in modo tale che la sua parte più antica ti percepisca come un alleato. Sesto errore, non motivare il suo cervello limbico. Prova ad immaginare di essere un venditore e dire al tuo cliente, ti chiedo di comprare il mio prodotto perché questo mese io ho proprio bisogno di fatturare. Secondo te quante possibilità ci sono che firmi il contratto di acquisto? Probabilmente nessuna. Il cliente per comprare deve essere motivato, deve sentire di soddisfare il suo bisogno, non il tuo. Ora prova a trasportare questi esempi nei tuoi figli. Fai presto perché arrivo tardi al lavoro. Non ne posso più di vederti con quel cellulare in mano. Mettilo via. Non è possibile che io dopo otto ore di lavoro debba aiutarti a fare i compiti. Vedi l'analogia? Cerchi di convincere tuo figlio sottolineando i tuoi bisogni, non i suoi. Il suo cervello limbico, quello legato alle emozioni, si motiva ad agire quando sente che il tuo messaggio è utile, conveniente e vantaggioso per sé. Errore numero 7. Non mantenere ciò che hai detto. Se continui ad usare quel cellulare, da domani te lo faccio sparire. Se continui a comportarti così, non ti aiuto più con i compiti. Oggi sei stato ore davanti alla PlayStation, per una settimana non ci giochi. Siccome continui a spingere i tuoi amici, ora andiamo via dal parco. Ma poi il tuo bellissimo figlio ti guarda con occhi supplichevoli. Ha capito, ha davvero capito e si è pentito. Quindi gli restituisci immediatamente il cellulare, lo aiuti nei compiti, gli permetti di giocare alla play ben prima che sia trascorsa un'intera settimana e rimane al parco, anche perché è l'unico momento in cui puoi scambiare due chiacchiere con delle mamme. Mamma, mi compri questa cioccolata? No, tesoro, non ce l'hai bisogno, ma ancora una volta le insistenze infinite di tuo figlio e magari il rischio di una crisi sterica al supermercato ti porta a comprare della cioccolata. Risultato? Perdi tutta la tua credibilità e tuo figlio non ti ascolta. Errore numero otto, le etichette. Sei sempre il solito, non ascolti mai, fai sempre di testa tua, dici sempre di no, mi fai sempre arrabbiare. Sono frasi normalissime quando perdi la pazienza con tuo figlio che tendono ad ascoltarti. Sono normalissimi momenti di nervosismo, è come darti torto dopo che hai ripetuto le solite richieste per cento volte, ma purtroppo tutto ciò che dici diventa un vestito addosso a tuo figlio e lui comincia sempre di più a ricoprire quel ruolo. Più gli ripeti chi non ascolta, che fa di testa sua, che è oppositivo, che è sfidante e più lui non ascolterà, farà di testa sua e diventerà sempre più positivo e sfidante. Ebbene sì, tu hai proprio questo superpotere. Quello che pensi e dici di tuo figlio diventa parte della sua identità. Meglio usare con grande consapevolezza queste etichette. Errore numero 9. Cedere alla rabbia di tuo figlio. Tuo figlio ha ascoltato e capito la regola, ma quando è il momento di rispettarla proprio non ce la fa. La sua frustrazione nello spegnere la tv, nello staccarsi dai videogiochi o nel ruporre il cellulare o nel mettersi a fare i compiti, prende il sopravvento. Comincia ad urlare, a piangere, ad arrabbiarsi con te e ad accusarti di tutte le colpe del mondo. E tu, che sei stato così straordinariamente calmo fino a quel momento, ad un certo punto non gliela fai più. Ha cominciato tuo figlio e tu non puoi sopportare tutta quella rabbia, quindi comincia a rispondergli a tono. Conclusione? Un rumoroso conflitto che distrae il tuo figlio dal contenuto della regola e lo immerge dentro ad emozioni per lui ingestibili. Risultato? Non ti ascolta. Decimo errore. Pensare che tuo figlio sia la soluzione. La relazione in famiglia sarebbe perfetta. Sarebbe sufficiente che lui mi ascoltasse e non ci sarebbero più conflitti. Ma non è così. Non è compito di tuo figlio ascoltarti. Non è sua la responsabilità di avere una buona relazione con te e lui non è in grado di risolvere i conflitti. Questo ruolo è tuo. Aiutarlo nelle scelte difficili, farti ascoltare, risolvere i contrasti mantenendo la relazione. Se speri di trovare la soluzione in tuo figlio, se speri che sia lui a cambiare perché matura, cresce, capisce, ti faccio i miei più sinceri auguri, ma temo che dovrai aspettare molto e forse anche in vano. Sei tu la soluzione e sei tu la guida. E può essere anche più semplice di quanto pensi se sai come farlo. È mia intenzione condividere con te un metodo molto efficace, risultato di anni di studi e di osservazioni. Da maggio 2020 sarà disponibile su Amazon.it il manuale Mio figlio non mi ascolta. Cosa posso fare? Per contattarmi, visita il mio sito sabrinasalmazo.it.